Tutto facile per la supercapolista notaresco che con il fanalino di coda cattolica stabilisce il record dei record, 11 vittorie consecutive. La squadra di Vagnoni passa con un difensore, Pomante, che spinge in rete una palla non rinviata dalla difesa avversaria. Il 2-0 è del solito Sansovini, alla settima rete stagionale, controllo di sinistro, finta e diagonale con il destro. Continuano a stentare le altre bruzzesi, solo pareggi casalinghi per 1-1 di Pineto, Vastese e Avezzano. Tutto nei primi 25 minuti tra Pineto e Matelica, ospiti in vantaggio con l'ex Tomassini sul primo palo. Il pareggio arriva subito dopo, per merito di Bianciardi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa lo scatenato Tomassini colpisce anche una traversa, ma il Pineto potrebbe vincere con massa che fallisce l'occasione nel finale. La Vastese è anche sfortunata con il Porto Sant'Ilpidio. I marchigiani vanno in gol con una punizione di Maio con un sinistro perfetto dopo soli 5 minuti. Nella ripresa a sedio dei Vastesi, Dos Santos sbaglia un calcio di rigore tirando alto, poi il giovanissimo Cavoti colpisce un palo, fino a quando Stivaletta trova l'1-1 con un tocco ravvicinato. 1-1 anche per l'Avezzano con il Montegiorgio. Marsicani in vantaggio con Puglielli dopo un'azione da destra a sinistra. Poi una punizione dal limite dell'area che l'arbitro fa diventare un dubbio rigore regala il pareggio a Marchionni. Brutte sconfitte per Giulianova e Chieti. La Jesina, che era ultima, trova la prima vittoria in campionato contro il Real Giulianova. Porta bene i marchigiani l'esordio in panchina di Sauro Trillini. Gol vittoria al tredicesimo con Villanova, che sfrutta un errore della difesa giuliese. Davvero inguardabili i giallorossi che non hanno mai tirato in porta. Ad Agnone sconfitta letale per l'allenatore del Chieti Alessandro Grandoni, che è stato esonerato. Con il vasto Girardi nel primo tempo arriva subito un rigore di Chiere Mateng. Nei minuti finali della partita era il doppio di Daguanno su errore del portiere Camerlengo. Per il nuovo allenatore del Chieti in pole position c'è Pino Di Meo. Sarebbe un ritorno.